Vicepresidente Sant'Angelo, la fiaccola di Special Olympics arriva all'Aquila e sarà custodita in Consiglio regionale. Una scelta, una volontà sua dell'Ufficio di Presidenza? Una scelta dell'Ufficio di Presidenza di custodire appunto questo simbolo di speranza, di pace e di inclusione, la fiaccola di Special Olympics, nel cuore, nel lago Rà della Regione Abruzzo, che è appunto il Consiglio regionale. Per i giorni che la fiaccola resterà in Abruzzo, prima di iniziare il tour nelle nostre città, sarà custodita all'interno di questa sala così prestigiosa, la sala Silone, sarà visitabile dalle persone che vorranno venire a vedere la fiaccola di Special Olympics, perché il messaggio che vogliamo lanciare è che attraverso lo sport si realizza la vera inclusione. Questi ragazzi sono magnifici, ogni volta non smettono di sorprenderci, quindi la nostra regione sarà a fianco di questo lungo cammino di inclusione di Special Olympics, la fiaccola sta girando tutte le regioni d'Italia per dare il via poi ai giochi che si terranno quest'estate nazionali di Special Olympics.